bel posto, vai piano, sennò vedo un cazzo, guarda su, è una bella zona il Pinerolese, è di un fausto vai piano qua, è una cazzetta, la classe, si sta smontando pure, è proprio della Rolls, guarda questa no, è un bel posto non lavora più bene, vuoi prendere il caffè qua? andiamo, non lavora più bene questo qua, non è più come una volta qua per un attimino possibile, piovanti, piovanti, c'è sempre quella villa qui, quella casetta questa qui è abbandonata, si è buota, mi sembra bellissima strutturata, fa una vita che abbandonare giù? la giù scendiamo giù, verso Pinerolo e allora ecco, quando scende di qua, non vedo qui niente, Pinerolo è così, più piano il piano è più pieno comunque è bello anche venendo d'arriva, se sei nella zona, si, venendo d'arriva verso la Prealpina, verso Rolletto, no? ti prendi quella parte lì anche bella, fantastico, hai fatto proprio un bello servizio qua beh, hai indovinato, ho fatto una bella, una bella pellicola ahahahahahahahahahhaha questo dove è bello in giro, ah non si può, andiamo di giù ah, è giro eh Sì Io abitavo giù da lì, tanti anni fa con Sabina, giù da lì, proprio lì, con la casa là giù, poi da su si vedrà. Adesso saliamo su dall'altra parte, questa si chiama Santa Brigida, un posto molto bello qui, la collina, tre collinari, dei pineralotti, qui la strada sale eh, cassonette, perché in Italia mettono i cassonetti dappertutto, tanto per rovinare un po' da Lorena. Questo è bello da me che si vede. Grazie. 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 È sempre i cassonetti, ma dappertutto i cassonetti ci sono in Italia. E' una monnezza proprio in Italia. Però è pulito. Certo, ma ci sono in Italia questo casino. In altri posti non è così. Non si fanno vedere queste cose. Ecco qui c'è un posto dove si vede. Più avanti. Se andiamo più su, vediamo ancora meglio. ... Grazie. Una volta si vedeva di questo che sono un calcio, allora vedi qua su. Qua dovresti scendere, io posso la macchina, vedi di qua. Guarda, ho visto da lì. San Maurizio, visto da qui, Pinerolo. La rocca di Cavour va giù, dopo il tetto, la vedete? Qua. Ciao. Grazie. Grazie. Basta! Stai su, stai su, stai lì. Cosa lì? Poverino. Stai fermo qui davanti. No, no, fai vedere. No, ma fermati. Che cazzo? Stai lì. Tornato. So it's done. So, tu c'è lì. Maureynn, tu c'è lì? Tornato. Non c'è lì. Vuoi? Voi? Non c'è lì? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.